Ma vogliamo aprire noi oggi il nostro telegiornale con una notizia devastante, un'intervista fatta a un imprenditore che fornisce cemento a quelle che sono le varie imprese della zona che nel frattempo può succedere che vengano sequestrate, ma come già abbiamo detto i crediti che gli amministratori giudiziari o quell'azienda ha vengono ricevuti, i debiti cioè il pagare invece i creditori, la legge consente che non devono essere pagati, così abbiamo una caduta di birilli, proprio a birilli, un'azienda sequestrata ne fa fallire altre 20, perché? Perché non vengono pagati quelle che sono le spettanze dovute e ovviamente succede che falliscono tutte persone per bene, fornitori che ovviamente riescono poi, non riescono più nemmeno a sopravvivere. Ma è possibile che una legge sia concepita in questa maniera, chi l'ha concepita o chi l'ha nel tempo modificata a uso e consumo, ci chiediamo perché. Un particolare, mentre facciamo un po' il sunto di quello che sta succedendo e che dove ce ne continueremo ad occuparcene, vi consigliamo, quantomeno per questo servizio, per questo sfogo, questo amaro sfogo di un imprenditore che avanza 700 mila Euro da varie ditte che sono sotto sequestro giudiziario e gli amministratori giudiziari non pagano, pensate che ieri è andato al Tribunale di Palermo, ha avuto la fortuna anche di incontrare la dottoressa Saguto che non aveva visto l'ora di levarselo davanti perché gli ha spiegato e gli ha detto che non è competenza sua, ma come? Dottoressa Saguto, lei è quella che nomina gli amministratori giudiziari e dà le direttive agli amministratori giudiziari di cosa devono fare, dopodiché rispondono gli amministratori giudiziari a lei e delle loro nefandezze ne rispondono pure a lei, il problema qual è? Che non c'è una legge su una responsabilità dei giudici se sbagliano, purtroppo molto spesso dobbiamo dare ragione a chi non la merita e che non dovrebbe nemmeno parlare, ma una volta sul campo siamo costretti a dire è così, se ci fosse una responsabilità dei giudici, un giudice che sbaglia, sbaglia nel sequestroare un'azienda, sbaglia nel nominare un amministratore giudiziario incompetente, sbaglia nel procurare danni, licenziamenti, persone che falliscono, deve pagare, la legge è uguale per tutti, anche per quei giudici che sbagliano, dovrebbe essere almeno quanto meno così, vi stavo dicendo di allontanare i bambini, nel frattempo c'è un riassunto, nel frattempo vi consigliamo di allontanare i bambini di davanti al televisore perché l'imprenditore così amareggiato, così scoraggiato usa delle parole molto forti, offende maledettamente quelli che sono i poteri dello Stato che consentono al COO e quindi vi consigliamo di allontanare i bambini. Iniziamo dal primo servizio. La mara faccenda di Saverio Manno, un imprenditore e creditore di un'azienda e Stato di amministrazione giudiziaria che si trova al centro del contendersi di interminabili procedimenti su aziende amministrate da professionisti nominati, non finiremo mai di affermarlo con criteri dove fanno capolino interessi personali e clientelari che non fanno altro che danneggiare imprenditori che si trovano coinvolti in questo perverso giro dove le nomini di amministratori, di consulenti, di collaboratori scelti fra amici disoccupati, carabinieri in pensione e parenti di cancellieri non fanno che danneggiare fino al punto da farli fallire, creditori che si vedono ignorati e spesso trattati come presunti creditori, dipendenti che vengono licenziati per mancanza di fondi che invece vengono impiegati per assumere personaggi del giro. E in tutto questo il magistrato titolare dei procedimenti relativi alle misure di prevenzione è responsabile della nomina degli amministratori giudiziari, afferma a voce alta, di queste cose non so nulla. E quindi non c'è responsabilità, è mai possibile che c'è una legge che dice che un'azienda sequestrata deve essere nell'arco di un mese, si deve tenere il procedimento eventualmente per il dissequestro o meno, però quella legge non prevede eventualmente sanzioni per il giudice che non la applica, ma è mai possibile, un giudice si può permettere di non applicare la legge e non essere sanzionato. Adesso ascoltate una parte dell'amaro sfogo di questo imprenditore poi ha ruota libera l'intera intervista che abbiamo realizzato e sinceramente è stato anche difficile fermarlo, fermare la sua amarezza e fermare quello che è il suo sconforto di un'azienda che da 40 anni lavora e che adesso si vede costretto al fallimento e al licenziamento degli operai. L'imprenditore non vuole tornare a casa perché il suo mugliere ci vuole rara l'ignanza, quindi ascoltate e un'altra raccomandazione, allontanate i bambini dal televisore. Purtroppo quello che noi abbiamo detto nel tempo è che i beni, parliamo sempre comunque di beni sequestrati, visto che tra le altre cose siamo diventati un punto di riferimento di tante persone che vengono rominati da amministratori giudiziari, come al solito ribadiamo, incompetenti e nominati sempre e comunque con la responsabilità del giudice. Parentesi, l'avete visto mai un non giudice che paga o un amministratore giudiziario che paga per la sua incompetenza? Ecco, questo dovremmo riflettere perché quando parla qualcuno poi diciamo che è pazzo, non è così, perché i magistrati se sbagliano devono pagare e se gli amministratori giudiziari sono incompetenti devono essere cacciati appedati in culo. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di sequestri di beni che funziona così a detta di qualcuno, ma non è così, e cioè al momento che un bene viene sequestrato, se quel bene ha dei crediti, cioè c'hanno aggeri piccioli, vengono incamerati, se li deve invece dare, se deve pagare quelle che sono le forniture, non si pagano. Ma voi avete visto mai uno Stato, Stato, chi trova la valanzetta? Cioè San Nacara così ha visto essere sempre a metà la legge uguale per tutti, che una mano riceve e con l'altra invece con l'altra parte non paga? Ecco, credo che questo sia devastante. Oggi abbiamo qui con noi un'impresa, un deposito che fornisce, ha fornito quelle che sono appunto le materie prime, parliamo di calcio e strutto e quindi parliamo di cemento a dei beni che in questo momento sono stati sequestrati. Abbiamo già detto che a Birilli poi falliscono a seguire, visto questo andamento, altre imprese che nulla hanno a che vedere con il bene sequestrato che ricordiamo ancora una volta nella fase di sequestro è o si deve ritornare al legittimo proprietario e mantenuto nelle stesse condizioni in cui viene sequestrato al momento, oppure verrà confiscato definitivamente. Ma in questa fase nessuno si può permettere il lusso di mandare operai a casa, di licenziarli, senza addirittura rispettare quelli che sono i canoni della legge, il preavviso, la lettera. Qua siamo allo stato brado totale dove la legge è uguale, direbbe il signor Manno P fissa, mentre P sperte addirittura è tutta un'altra cosa. Il signor Manno avanza piccioli da aziende che in questo momento sono sotto sequestro per un totale quasi di 700 mila euro e ovviamente la sua azienda rischia il fallimento se non è addirittura fallita. Ma ci facciamo raccontare addirittura quello che è stato il suo calvario oggi andando al tribunale di Palermo ed è stato fortunato perché guarda caso ha incontrato direttamente il presidente del tribunale di misure di prevenzione, la dottoressa Saguto che come Pilato se ne è lavata le mani. E così, che è successo? Lo tengo io. Ah, stamattina sono stato al tribunale di Palermo dove ho chiesto della signora Saguto gentilmente ai signori, sportello per sportello, ho perso qualche mezz'ora prima che ho trovato la stanza, fin quando l'ho trovata, però lei non c'era. Manco mi giro nel corridoio, tacca, entra lei con altri due signori, gentile come mi è sembrata che sia, mi ha detto no, no, si accomodi. E mi sono accomodato. Il tempo di sedermi, ma quale riscaldare la sedia. mi ha detto cosa desideravo e io ho detto che desideravo che ho avuto un problema con la Icoscem e con la nuova Beton dove si erano bloccati circa 560 mila euro più la Cacestruzzi Castellammare altri 120 mila euro. Per tutta risposta mi dice che lei è la presidente perciò e non se ne occupa di queste cose. Praticamente mi sono alzato, in tre secondi mi ha eliminato, mi sono alzato, ha chiesto a un signore di accompagnarmi a un altro ufficio dove sono andato. Quel signore dove sono andato all'altro ufficio mi dice, mi dà un consiglio più che, devo dire, tutti gentili persone, per carità, tranne Napoletano però, che quello è un cornuto. mi permetto di dirlo perché l'ho detto là dentro e lo ripeto pure adesso e me ne prendo le responsabilità, signor Napoletano, ora ti guardo negli occhi. Secondo, questo signore mi dice che io devo prendere un buon avvocato, ma l'avvocato lo posso prendere, problemi non ce ne sono, ma con quali soldi? Ma se i soldi li avete voi e fra parentesi il signor Benanti e il signor Sanfilippo che è alto due metri e ottanta, è largo quattro per quattro e non sa fare altro che minacciare la gente in modo particolare a me, signor Sanfilippo che godi, vero? Mi ha buttato fuori, cioè non mi riceve neanche, anzi lavoro non se ne parla alla commerciale Sicola, lavoro non ce ne deve dare. Il signor Benanti ha avuto solo il buon senso di chiudere i conto correnti e di mandarmi quasi a quel paese. Vero è che l'altro ieri ci ho fatto una telefonata e mi ha risposto il suo collaboratore dicendoci che sono una manata di cornuti abbastanza abbondanti. Mi fermo lì perché è mortificante per me, non per loro. E visto che è mortificante per me, dico pure a qui che è mortificante questo signore, che io visto che non ho i soldi, se me li prestava lui, mi ha detto ne avesse per me. Era uno delle forze dell'ordine diciamo? No era ancora un impiegato, un impiegato che era... O un giudice, non si sa chi. Dico una bugia neanche il nome so, perciò non posso dire chi e come. Gli ho spiegato tutta la mia situazione, mi dicono sempre di servirmi di un buon avvocato. Gli ho detto che non c'ho una lira per spararmi, perché a sto minuto la cosa che convendrebbe fare è ammazzare le voce, ma io no. Vorrei cochiare perché la io no. Come vorrei essere avanti, non è che hai il problema di rivirlare avanti del re. Tanto, dici che la legge è uguale per tutti, sta minchia. La legge è uguale per cui sapete voi, per me non è sicuro. Vi ho chiesto chi è che ha fatto sta legge, mi dicevo che fumo, mi dice. Ma con questo non è questo, mi dice. Forse che abbiamo mangiato un zemmolo questo, mi dice. O forse che abbiamo aiuto a fumare un zemmolo questo, mi dice. No, ma veramente è il Parlamento. Ma con questo non è questo, minchia il Parlamento. Ancora ce ne mettete i cristiani. Non bastava uno ruolo. Ma quanto sono il tuo Parlamento? 500, 600. Come cazzo fanno a fare una legge? Il signore mi dice, si calma il signor Manno. Ma io effettivamente sono calmo. Preparatemi l'insulina, perché sono un diabetico. E se mi abbassano le zuccheri, su cazzo. No mia, cazzo vosso. Perché vivo moro. Ormai 60 anni vai. Ma non è che io chiuso un nero. Un porco campo un anno. Gli hai campato 60 anni. Non mi chiavo lì da arrivare. A pigliare il culo a me. O a levarci la casa a mia moglie. Dopo 40 anni di zappare. Vado fottuto. Ogni anno 20-30 mila euro solo di redditi. E li posso dimostrare. Non chiacchiere. Ma la bleffa non è questa. Sulla Cacestruzzi Castellammare, che devo avere 120 mila euro. Gli devo pagare i redditi e l'IVA. Ma sapete che mi è arrivata la cartella esattoriale di 30 mila euro. La signora dell'ufficio delle entrate, per fare una cortesia a Manno, dice che me la può ratealizzare. Però non è che me la può regalare. Ma ci manca si altro. Signora lei questo sacrificio non lo fa fare. Ma porco Dio. Un mio bestemmio perché ancora. Un signore non c'è culpa. Solo un ingornuto napoletano non c'è culpa. E come ne ha preso. Perché lo pisci non è che ha puzzato mai delle pere. E ha puzzato sempre la testa. Non è che hai il problema in televisione. Perché tanto ve li rissero avanti. E non avete avuto il coraggio di farmi manca attaccare. Vi ho pregato di attaccarmi. Vi disse che faceva una rapina in diretta. Ho difuttito la scopetta o carabinè. Vi disse finiscila. E finiscila. Ho bisogno di un pochettino di rilassamento. Nel frattempo io la faccio un'altra domanda. Quindi riepilogando. Lei per quanto riguarda la fornitura fatta in questo momento beni che sono sotto sequestro non ha ricevuto una lira. Anzi addirittura deve pagare le cartelle esattoriale e le tasse. Chiedendo a chi di competenza. Quindi lei ha avuto il piacere. Noi no. Di parlare direttamente con la dottoressa Seguto o con altri membri che la collaborano. Gli hanno detto di rivolgersi a un buon avvocato. Perché la legge prevede che per incassare, come abbiamo già detto, incassano. Per pagare ci vuole l'avvocato. Ma non solo. Attenzione. C'è una cosa ancora più grande. Ci vuole il suo tempo. Un anno. Ma a me questo tempo non è che mi serve. Tanto io sogno morto ora. Che cazzo non è fare fra un anno di questi problemi? Fra un anno non c'è sogno più. Con quelli che a discorrere. Con un patatardo. E chi doveva tanti di problemi? A meno che pensi a chi doveva io. Non aveva milioni e milioni e milioni di problemi. Ma la cosa più strana non è neanche questa. La cosa più strana è che entrano due carabinieri per portarmi fuori. Ci rispondeva di ronire. La verità è che mia moglie mi è stata fuori. Comprese le mie figlie. E ciò ne vennero un'ire. Ho chiesto gentilmente mettendomi quasi in ginocchio. Di portarmi in galera. Perché in galera. Perché oggi faccio la legge che dice che in aprile pure. Si sta quattro ore fuori, otto ore fuori al resto. Si mangia e si vive. Minchia te all'ingrasso. Come un porco. Dico che ci vai a faccia la casa su una mancuna per mangiare. Meglio una lera che mi è andata a mangiare. Non mi hanno accettato neanche questo. Ma anche questi spese vogliono fare questa manata di cornuta. Ma la cucuruta si fa rivolgi con questi anni. Io vorrei sapere. Ci sono tre pazze signori miei. Uno è fatto tutto ripeto. Ferro armato di chitto a cuculone. Che vanno le confusione da rinno. Tutti questi minchiai. Tutti i miei. Tutti altri poveri. Chi bitti cacchi trecento carpette. Addirittura mi disse che ci sono carpette di 2 miliuna di euro. Ma quanta gente rovinata c'è in Sicilia. Ma è la terra. Sono le cristiane o sono le carabine nere? Che sono dentro. Dopo c'è da fare lo tocco. Io vorrei sapere. Questa intervista la sto facendo con lo sangue all'occhio. In vita mia non aiuto mai un telegiornale. Non aiuto mai la piazza. Non aiuto mai a vivere in una bottiglia di birra. Non aiuto mai un buon senso. Hai avuto sempre il piacere di amare la donna. E secondo di amare il lavoro. Oggi non hai avuto nulla piacere del mondo. E terzo è la sigaretta. Altri piacere non ho avuto più. L'unico piacere che avevo di fare una casa. Ci sono riuscito. Ma con i giorni di Napoletano si fottano pure chi. Signor Napoletano. Ha 88 anni. 98 anni. Quanto cazzo d'anni è? Ma perché aveva la casa all'entrata a rompere? Le cugine le poverette. Ci sono riuscito senza onore con ci altro. 90 mila euro di pensione. Le cugine le poverette. E non lo faccio che cazzo d'anni è? L'ufficio dell'entrata a centamila euro di corpo. Ma non ne ho mai avuto. Le cugine le poverette. Le cugine le poverette senza onore con un sito. E al momento mi fermo qua. Ancora non ho così. E questo come avete avuto modo di sentire l'amaro sfogo di uno. Ma immaginate che sono decine e centinaia le persone che hanno fornito e che continuano a fornire beni sequestrati e che poi non vengono pagati per quanto riguarda il retroattivo. Perché la legge consente che posso siggire ma non devo pagare. E tu Stato fai fallire altre imprese pulite di persone per bene col tuo volere. Siamo alla pazzia pura. Questa non è più democrazia. E queste ovviamente sono delle leggi fatte ad hoc. I manciatari. Delle leggi fatte ad hoc per persone che mettono la camicia di marca. La cravatta di marca. E che se ne vanno a visitare. A passeggiare. Parliamo di amministratori giudiziari. Nelle imprese sequestrate. Magari con la compagna dietro. Tanto per fare vedere pure quanto sono bravi e quanto sono belli. A rovinare così le persone. Gli operai, l'anello più debole. Gli imprenditori che hanno fornito quelle imprese. Non credo che questo sia stato lo spirito della legge Piola Torre. La legge Piola Torre diceva di fottere bene ai mafiosi. Scusate il linguaggio che mi ha caricato un po', ma non certo di rovinare le persone per bene. E quindi c'è da prendere dei provvedimenti. E come abbiamo già detto, stiamo chiedendo l'intervento del Ministro di Grazia e Giustizia. Stiamo chiedendo l'intervento del CSM. Perché ci sono tantissime cose che non vanno. Come? Un amministratore giudiziario che può inquinare. Un amministratore giudiziario che può togliere i soldi dai contocorrenti e portarseli dove non si sa. E poi se eventualmente deve restituire l'azienda, quel contocorrente già è bello sbozzato perché prima si fregano i suoi. Addirittura, pensate, per quanto riguarda i beni confiscati definitivamente ad Amato, l'amministratore giudiziario Salvatore Benanti ha lasciato debiti e per pagarsi il suo stipendio ha venduto anche beni. Per non dire che poi li ha venduti a chi, ve lo diremo dopo, in maniera illecita. Cioè noi abbiamo amministratori giudiziari che violano la legge, che vivono nella illegalità e li continuiamo a mantenere nonostante le denunce fatte a chi di competenza. Cioè al Presidente Saguto, che continua a mantenerli, addirittura a raddoppiare anche gli incarichi, siamo alla fine del mondo. A ruota libera, alla fine del telegiornale, l'intervista e lo sfogo integrale del signor Manno. Intanto noi...